Sono Alessio Formiglietti, qui in Chef Academy mi occupo insieme a altri maestri della formazione sulla pasticceria e soprattutto pasticceria moderna. Oggi abbiamo preparato della pasticceria Mignon, in particolare abbiamo fatto le Sager Mignon, le cassatine siciliane Mignon, due Mignon quadrate da taglio, una lime e una lampone vaniglia e come torte moderne abbiamo fatto una da guasa alla nocciola con bavarese e inserto al lampone. Ho scelto questo tipo di produzione all'interno di questa giornata perché è una produzione che è in laboratorio dove io vivo tutti i giorni, è molto replicabile e soprattutto può essere stoccata, può essere ottimizzata anche la sua produzione, quindi può essere molto utile un domani quando i ragazzi andranno ad inserirsi dentro a una produzione, dentro al laboratorio.